E' sempre un grande onore ospitare gli amici di Parma, tutti quanti, è un grande piacere avanti così per mille anni ancora in Serie A insieme e tante feste così. E' un appuntamento per il 29 marzo probabilmente. Il nostro gran galà, certo. Veglio, venglio! O questo è stato giù, questo? Vengono, vengono! Per l'onore nostro essere qua oggi ospiti dell'amico Giorgino del coordinamento di Chievo Verona. E' sempre un piacere venire tra amici. Queste sono le cose che noi pensiamo che facciano bene al calcio. Ci impegniamo per fare sempre di più, per portare gente allo stadio, che se lo sport del calcio sia una cosa sempre più pulita, anche se ultimamente abbiamo dei grossi problemi all'interno del calcio. Purtroppo non è colpa nostra. Noi cerchiamo sempre di portare gente allo stadio e che sia lo sport più pulito del mondo. Però purtroppo, ripeto, non colpa nostra, non è così. Comunque noi, Giorgino in prima persona e tutta anche la FIS, si impegna per cercare di tenere lo sport e i tifosi più vicini al calcio possibile. Grazie, buon appetito!